L'obiettivo principale è farli tutti fuori. Soldato nemico in arrivo. L'obiettivo è eliminare il bersaglio tagliato. Guarda dove cazzo sta. Sono sotto attacco! Guarda che non c'ho la scuola. Ma cazzo di... E tu vuoi era da solo, no? Non è uno dall'altra parte, dall'altra parte. Stai andato dentro. Uno laggiù. Il bersaglio è dedito. con gli stronzi mi hanno puntato ma dai mi viene a cagare la vedo se stessi trovi ti ho paura sono il movimento uccisione da confermare avete del gas in arrivo senti a parte la che sta c'è un flyer c'è un flyer alla zona sicura subito Movimento Cazzo 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 Oh c'è un altro Ah sì Cazzo 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 Sì P К H A R A R A R A Co Ma dai, aveus t... Ya no, manini Mi bebelos Stai, basta Movimento Stanno massacrando Ma ce l'abbiamo anche su Mi ha dato il dito Oh qua ce n'è uno, qua ce n'è uno Fica Ma sto qua come secondaria Contatto con il nemico, posizione marcata Devo sciocco Un altro Un altro Questa è l'esame Un 24 Un 24 Questa è un'esame E' qua Questa è in giro, usano sul piano E' buono Questa è la sua Questa ha fatto un fortino Una roba assurda Fanno i load out Siamo ancora senza load out Mi sparrano! Raggiungiamo la zona sicura. Mi sparrano! Adesso questo. Siete salvi! Avete seminato gli inseguitori. Spende loadout. Qualcuno ha una corazza da darti. Avete un lancio di cui faccio mezzo in arrivo. Ho una corazza da darti. 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 Tanto con l'emico. Tanto con l'emico. Non importa. Dirigersi in questo punto. Non importa. No. 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 Sono sotto. Non sono ancora. Lancio una stordente. Eh vabbè. Alla nuova zona di cura. Stanno qua dentro. Non è l'emico. 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 Eh dio cane. Un momento di merda qua. Non c'è lo shop qua. Bombardamento di precisione nemico. Al riparo. Occhio occhio bombardamento. Non c'è lo shop. Abbi. Non c'è lo shop. Occhio. Tornati alla normalità. Uccisi. Ecco qua. Si mi hanno puntato. Guarda questo è il camper. No qua dentro o no? Uno laggiù! Nemico neutralizzario! Mondato nemico in arrivo! State perdendo terreno! Il tempo scorre! Trasfiggi il bersaglio! Anche ancora con lui! Adunatare! No ma dai! Ma perché? Perché? In due punti! Sono tipo due bersagli! Dai dai! Sono tipo due bersagli! Gli strozzi ne pentono di mie! Ma tu qua non aveva vita! Sono morti! Sono morti! Sono morti! Dai! Il bersaglio a terra! Sono morti! No! Non morirei! È che è l'altro legno! Mamma mia! Che merda! È l'altro legno! Ma che arma hai preso? No! Oh! È lì davanti! D'era una volta! Mamma mia! Alla onda! Ma io ora sono una gara della beata! Allora una pò! Ma mi farò! Adesso non ti farò che lo fai mai non seguo ok? E' un uomo! no sei tu dai che cazzo, bersaglio alleato dai, non cazzo c'è un'altra, a presa mi è giusto e qua c'è la proprio indico la meta vai vai corri, corri, corri arriva il gas vai andiamo da tuna dai tuna andiamo, la zona sicura non è vicina il tempo del contratto è scaduto ritirata vai dai libro tuna cos'è cos'è non so mia c'è rimasto sento ma dai, ma dai ma che come ha fatto, ma se non mi ha neanche sparato c'è uno c'è uno qua sotto il nemico qui lancia un assorbente lancia un assorbente cazzo un colpito tutto a posto gas in arrivo, zona sicura riposizionata qua sotto ci sono le mine sono le mine sono le mine gas in arrivo mina anticarro innescata dobbiamo raggiungere la zona sicura marco una stazione medica eh, oh, non è non è possibile mina anticarro innescata carica piazzata mi hanno colpito lancio una stordente nuova zona sicura e individuata cazzo vabbè di nuovo in azione zoom vabbè 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 vabbè